Allora, salve a tutti, oggi vi parlerò di Fairbase, che è un servizio che vi permette di migliorare le vostre app e scrivere appunto meno codice. Infatti semplifica molte di quelle funzioni che molti sviluppatori comunemente usano. Un pochino su di me, io mi chiamo Paolo Rotolo, sono al primo anno di ingegneria informatica qui al Politecnico e sono sviluppatore Android da due anni e mezzo, più o meno tre anni. I miei vari progetti sono più o meno questi qui. Il primo è un progetto open source, si chiama Glucosio, che è pensato appunto per i malati di diabete e raccoglie i dati glicemici e li mette in un diario proprio per aiutare il paziente e tramite un API permette a enti di ricerca o istituzioni di ricevere delle statistiche proprio sull'andamento della malattia nel mondo. Il secondo invece è Artwatch, un nuovo progetto a cui sto contribuendo del Politecnico di Milano. Praticamente riusciamo a rilevare le pulsazioni cardiache a partire da un'immagine del volto, a partire da un video del volto. Invece l'ultimo progetto, per cui lavoro da pochi mesi, è Next2Me, che è una piccola startup che ha sede qui a Conversano e si occupa di sistemi di posizionamento indoor. Quindi sarebbe una specie di Google Maps, però per interni. Parliamo di Firebase, un po' di storia di Firebase. Firebase nasce nel 2011. Non era chiamato proprio Firebase, ma era chiamato Envolve. Infatti Envolve era una startup che offriva un servizio di chat per siti web. Non andò bene, ovvero che gli sviluppatori iniziarono a usare questo servizio di chat più per scambiare dati che per comunicare. E quindi Envolve si è evoluto in Firebase, che ha aperto i battenti nel 2012 e offriva inizialmente un servizio di data per salvare e sincronizzare i dati tra i vari client, un servizio di autenticazione e ovviamente un servizio di hosting. Nel 2014, più precisamente il 21 ottobre, il fondatore, il co-founder di Firebase annuncia l'acquisizione da parte di Google. Quindi Firebase diventa parte integrante del pacchetto Google per gli sviluppatori e si iniziano a sviluppare tutte quelle features che poi troviamo nella versione di Firebase attuale. Infatti al Google I.O. 2016, ovvero a maggio di quest'anno, vengono presentate tutte queste novità del pacchetto Firebase che è divisa principalmente in tre gruppi. Gruppo sviluppo, ovvero servizi che aiutano a sviluppare la propria app, come vedremo il servizio di login, di authentication, cloud messaging, storage e tutti gli altri. Mentre poi c'è la parte di crescita, che permette appunto di acquisire nuovi utenti, come notification, remote config e tutto il resto, poi li approfondiremo più tardi. E ovviamente la parte, i guadagni, che permettono con la piattaforma AdMob di guadagnare con pubblicità nella propria app. Al centro di tutto questo invece c'è Analytics, che è il servizio che è, diciamo, sulla copia di Google Analytics, che permette agli sviluppatori di vedere le statistiche delle proprie app in tempo reale, il numero di utenti, dove sono e anche altre informazioni più avanzate. Ci sono stati 31 nuovi rilasci dal Google I.O. 2016, sono abbastanza, e l'ultimo, il più grande, è avvenuto proprio questo mese, il 7 novembre, al Summit Firebase di Berlino. Quindi in questo nuovo rilascio diciamo che hanno introdotto una serie di novità molto interessanti per gli sviluppatori. Prima di tutto nella piattaforma Analytics, qui infatti vedete i dati di un'app, se prima hanno migliorato Analytics e se prima, diciamo, che le conversioni, ovvero particolari eventi che noi volevamo tracciare all'interno dell'app erano disponibili dopo un po' di minuti, a partire dall'ultima versione di Firebase le conversioni sono in tempo reale. Quindi gli sviluppatori possono in tempo reale vedere cosa fanno gli utenti, quando lo fanno, e quindi reagire di conseguenza. È stato introdotto anche Google Data Studio, ovvero tutti questi dati che arrivano da Firebase Authenticator possono essere esportati come un semplice Google Docs. Quindi possono essere modificati nel colore, nella forma, e magari presentati ad altri come rapporti e tutto il resto. Infatti, se vedete qui, possiamo modificare il colore di varie parti della presentazione e tutto il resto. Tutto questo è offerto gratuitamente agli sviluppatori. Infine c'è l'export to Google BigQuery, che permette appunto di esportare tutti i dati dalla console di Firebase a Google BigQuery, nel caso dello sviluppatore abbia anche quello. Firebase Crash Reporting, invece, è un'altra libreria che permette agli sviluppatori di sapere appunto quando la propria app crasha sui dispositivi degli utenti, eccezioni, arresti anomali e cose del genere. Diciamo che prima i crash erano visibili nell'arco di 30 minuti, 20 minuti, cose del genere e quindi ovviamente tutti gli sviluppatori vogliono vedere i dati in tempo reale e questo problema è stato risolto a partire dall'ultima versione, sempre quella introdotta al Firebase Summit dove c'è solamente un minuto di latenza, ovvero è quasi istantaneo. Se noi pubblichiamo una nuova versione della nostra app su Google Play, quasi istantaneamente possiamo vedere se è quella versione a particolari problemi e quindi reagire di conseguenza prima che ci siano perdite. Viene introdotta anche la debug view, che è una sorta di timeline stile Facebook che ci permette di vedere cosa hanno fatto gli utenti subito prima di un crash e quindi di iniziare a debuggare il tutto, quindi vedere se è stata aperta una view piuttosto che un'altra, tutto il percorso che ha fatto l'utente prima che avvenisse l'errore e quindi ci permette di ottenere più informazioni. Un altro servizio che ha avuto degli aggiornamenti a novembre è Test Lab per Android. Test Lab sarebbe una farm di dispositivi fisici reali, ovvero un vero e proprio data center composto da telefoni che testano le nostre app. Il servizio prima era pagamento, ovvero pagando, potevamo testare le nostre app su tutta una serie di dispositivi come tablet, telefoni e tutto il resto, mentre adesso è gratuito fino a 5 test al giorno. Quindi se avete un'app tramite la Firebase Console avete 5 test gratuiti a disposizione che potete fare ogni giorno sia su telefoni che su tablet che su altri fattori di forma. Quindi è più facile trovare i bug prima di pubblicare un'app in produzione. Ovviamente i test sono supportati sia con framework tipo espresso oppure anche test automatici che la Google Play Developer Console dovrebbe anche fare. Poi passiamo invece adesso ad approfondire due servizi abbastanza interessanti di Firebase, ovvero Authentication and Notifications. Quanti di voi hanno visto una schermata del genere? Alla fine è una cosa abbastanza comune che troviamo in tutte le app che usiamo, ovvero la schermata di login. Quindi Firebase Authentication nasce proprio con questo intento, ovvero quello di semplificare gli sviluppatori, lo sviluppo appunto di una schermata di login, nel modo più semplice possibile. Firebase Authentication è una libreria che è disponibile sia per Android, che è per iOS, che è per il web e supporta tutta una grande miriade di providers. Abbiamo ovviamente Google, Facebook, Twitter, GitHub, c'è anche LinkedIn se non sbaglio e ovviamente anche supporto per un proprio server se vogliamo sviluppare il nostro sistema di autenticazione personale. Per quanto riguarda invece l'interfaccia, può essere sia sviluppata dallo sviluppatore, quindi semplicemente andiamo a scrivere quella che poi sarà l'interfaccia di login, oppure scegliamo la via più semplice che è quella di utilizzare la libreria di Google chiamata Firebase UI, che è disponibile anche ancora una volta sia su Android che iOS che per web, che permette di avere qualcosa di open source, di già testato e che si può personalizzare al massimo già sviluppato. Quindi tra un po' vedremo come, semplicemente aggiungendo poche righe di codice, possiamo aggiungere una schermata di login alla nostra app e integrarci con tutti i servizi che vogliamo. Ogni servizio ovviamente a sua volta genera un ID, una chiave, che poi viene usata nella nostra app per identificare in modo univoco l'utente e quindi personalizzare la sua esperienza, sincronizzare i dati e tutto il resto. Sì, è disponibile per tutte queste piattaforme, ok, ma come? Basta aggiungere la dipendenza in Gradle, ovviamente tutte queste informazioni le trovate sul sito ufficiale di Firebase. Una volta aggiunta la dipendenza e quindi scaricata la libreria, nell'activity principale vanno aggiunte solamente queste due variabili, ovvero Firebase Out, che sarebbe appunto il motore di autenticazione di Firebase, e Firebase Out Listener. Mike prima ha detto appunto cos'è un listener, ci permette di ascoltare degli eventi e con il listener potete appunto sapere quando ad esempio l'utente fa il login, quando fa il logout e tutto il resto. Ad esempio, questo è l'onCreate, ovvero il codice che viene eseguito appena la nostra applicazione parte. Dobbiamo inizializzare l'oggetto mout, authentication, e invece nel Listering ci andiamo ad estendere il metodo a un out state change che in poche parole controlla se esiste un utente, e se l'utente non esiste ovviamente vuol dire che nessuno ha fatto il login, quindi dobbiamo molto probabilmente mostrare i dialoghi di login e permettere di fare il login all'utente, mentre se l'utente già esiste, va tutto a posto, possiamo iniziare a usare l'app perché appunto l'utente ha già fatto il login. Ovviamente quando si tratta dei Listering bisogna sempre registrarli nell'onStart e nel onStop dell'Activity, in modo tale da usarli solamente quando sono utili. Possiamo anche creare a mano un nuovo utente, c'è questo metodo qui, create user with email and password, basta passare l'email del nuovo utente e la password come parametri e l'utente viene semplicemente aggiunto, abbiamo anche un callback che ci dice se l'operazione ha avuto successo, e ovviamente possiamo anche usare il metodo signin che ci permette di fare il login con una determinata email e password e che anche lui restituisce poi a un errore o a un segnale di successo. Oppure, come ho detto prima, per evitare tutto questo codice vi basta usare la libreria disponibile su GitHub, Firebase UI. Quindi, l'altro servizio invece che vi volevo presentare oggi è Firebase Notification. Qualcuno di voi ha usato Parse di Facebook? Ok, allora, Parse era un servizio che faceva più o meno la stessa cosa, era composto sia da un database, sia appunto da un sistema di analytics, che dalle notifiche. Permetteva agli sviluppatori di mandare notifiche ai propri utenti. Non so, un utente installa l'app, lo sviluppatore da una console semplicemente scrive un messaggio e tutti gli utenti lo ricevano. Beh, Facebook ha deciso di terminare il supporto per Parse che dall'anno scorso, l'inizio di quest'anno, non ricordo, non è più disponibile e quindi diciamo che molti sviluppatori si sono ritrovati senza un servizio da usare e Firebase colma proprio questa lacuna. Infatti, Firebase Notification permette di inviare dalla console senza scrivere alcuna riga di codice notifiche a tutti i propri utenti. Possiamo inviare notifiche a tutti oppure solamente a una certa parte di utenti come quelli che hanno fatto ad esempio un acquisto in app oppure ad alcuni, un gruppo di utenti che magari abbiamo creato nella Google Cloud Platform. È anche integrato in analytics, quindi possiamo inviare messaggi solamente a una fascia di età, solamente a un genere, quindi è veramente, personalizza bene ogni aspetto e possiamo utilizzarlo per ogni evenienza. Ad esempio, possiamo mandare un messaggio solo a chi ha già fatto un acquisto in app, nella nostra app, e quindi ringraziarlo oppure proporre nuove offerte. Ovviamente, attualmente ci sono due servizi, ovvero Firebase Cloud Messaging e Google Cloud Messaging. Questi due servizi sono più o meno simili, anzi, Firebase diciamo che eredita tutto quello che Google Cloud Messaging è. Solamente che Cloud Messaging è ancora supportato, ma non sarà più aggiornato, mentre gli aggiornamenti continueranno in Firebase, quindi se qualcuno di voi utilizza già Google Cloud Messaging nella propria app, è consigliato fare il passaggio a Firebase, che avrà nuove features a breve. E ovviamente il servizio Firebase Notification si appoggia su Firebase Cloud Messaging. Anche qui, per aggiungere il servizio, ci basta aggiungere le librerie all'interno dei nostri file Gradle, anche la libreria di Google Play Services, perché ovviamente si appoggia adesso, Firebase Core, Firebase Messaging e tutto il resto, e poi se vogliamo possiamo anche estendere un servizio nel nostro manifesto che riceverà i messaggi, oppure personalizzare tramite metadeta, poi quello che sarà la notifica, quindi il suo aspetto, il colore, l'icona e tutto il resto. Totalmente opzionare è anche un altro metodo, onMessageRecived, dove possiamo compiere un'azione ogni volta che abbiamo ricevuto un nuovo messaggio. Quindi oltre a visualizzare una notifica, facciamo qualcosa all'interno della nostra app. Ok, si dovrebbe vedere ora. Nel file Gradle, ovviamente, ho aggiunto la libreria, quella che vi ho fatto vedere prima, FirebaseUI Authentication. Queste sono tutta una serie di librerie aggiunte, proprio perché ho scoperto stanotte che l'ultima versione di Firebase aveva un bug, quindi tra un po' finita su GitHub ha bisogno un pochino di forzare le librerie usate. Mentre invece, poi, nell'activity principale, come possiamo vedere, abbiamo nell'onCreate Firebase Authentication, che è istanzializzato, e se l'utente è diverso da null, quindi c'è già un utente che ha fatto il login, non c'è bisogno di fare niente, perché ovviamente l'utente è già loggato dentro, quindi non abbiamo bisogno di compiere nessuna azione successiva. Mentre se l'utente non ha fatto il login, dobbiamo semplicemente far partire la libreria, quindi Start Activity for Results, e qui possiamo passargli i vari provider che poi andremo a utilizzare. In questo caso ho aggiunto soltanto Facebook Provider, ma possiamo aggiungere Google, LinkedIn, Twitter e tutto il resto. Per ogni provider aggiunto verrà visualizzato poi un pulsante all'interno della nostra app. Il risultato di questo metodo, ovvero, questo metodo apre un'altra activity, e quando questa activity è finita, ovvero ha fatto il login, ci ritorna un risultato che viene poi riletto nella nostra activity, qui, nell'onActivityResults. E qui possiamo vedere che analizziamo il result code, se il risultato è ok, vuol dire che l'utente effettivamente ha effettuato il login, mentre se è stato cancellato possiamo agire di conseguenza. Ok, questo qua è l'aspetto, questa è la nostra app di test, il codice lo vedete subito dietro, e appena l'app viene avviata, dato che non abbiamo eseguito il login, esegue questo metodo qui, Start Activity for Results, abbiamo passato solamente come provider Facebook Provider, e se non sbaglio anche l'email, ecco qui, email provider, e quindi come vedete nell'activity, come vedete nell'activity ci sono solamente questi due pulsanti, che sono quelli che abbiamo scritto in precedenza, questo ovviamente è tutto gestito a livello di libreria, quindi come avete potuto vedere non abbiamo dovuto scrivere nulla, se facciamo clic su Sign in with Facebook, viene automaticamente chiamato l'SDK di Facebook, che si occupa di fare il login. Ok, probabilmente dobbiamo andare anche nella Facebook console ad attivare l'app, ok, però più o meno il funzionamento è questo. Qui ovviamente dovete prima creare l'app in una console degli sviluppatori di Facebook, se volete abilitare il login, andare ai vari servizi, abilitare Facebook login, e nelle impostazioni dovete anche aggiungere come piattaforma Android, e ok, ci vuole un pochino di informazioni come il nome del pacchetto e tutto il resto, però vi assicuro che una volta fatto tutto questo, potete semplicemente effettuare il login con Facebook, e quindi avere un nuovo utente nella vostra app. Se invece andiamo a dare un'occhiata alla console di Firebase, che appunto è gestibile tutto a livello di web, questa qua è l'app di test che ho creato ieri, possiamo vedere come in authentication possiamo abilitare diversi metodi di login, in questo caso abbiamo abilitato solamente Facebook, possiamo abilitare anche altri, basta così abilitarli e tutto il resto, e automaticamente possiamo fare il login poi anche via codice, e mentre qui verranno visualizzati poi tutti gli utenti man mano che vengono aggiunti, possiamo anche aggiungerli autonomamente dalla console di Firebase. Mentre per quanto riguarda le notifiche, come stavo dicendo prima, dal pannello notification di Firebase, è possibile inviare una notifica a tutti i dispositivi che hanno la nostra app installata. Qui appunto l'interfaccia è molto semplice, basta cliccare, invia il primo messaggio, e inserire il testo del messaggio, ad esempio test, etichetta del messaggio che potrà essere usata poi dall'app, quando inviare il messaggio, quindi se inviarlo adesso, se inviarlo fra più giorni, quindi potete anche pianificare le notifiche che volete inviare, e come dicevo prima, la destinazione può essere sia tutti gli utenti della nostra app, in questo caso selezioniamo tutti gli utenti che stanno utilizzando questo pacchetto, oppure per argomento, o mandarlo soltanto a un singolo dispositivo. Potete anche inviarlo ad esempio all'applicazione che, ad esempio solamente a tutti gli utenti, che hanno come lingua l'italiano, oppure come lingua l'inglese, quindi mandare messaggi diversi a seconda della lingua, oppure a seconda della fascia d'età degli utenti. Ovviamente io ho Android in italiano, in inglese, quindi viene visualizzata soltanto una lingua, quindi non permette di aggiungere nuove lingue, però dipende dal numero di utenti che abbiamo, e poi possiamo tracciare quanti utenti hanno aperto la notifica e tutto il resto. Invia messaggio, inviamolo adesso, può anche scadere, quindi tutti gli utenti che useranno l'app tra quattro settimane non ce l'avranno più, e facciamo invia, e come potete vedere qui dalla console, lo stato appare come in corso, e adesso FireBee si sta inviando il messaggio a tutti gli utenti dell'app. Potremmo riceverlo anche noi, ma non penso perché, probabilmente c'è un, non ho generato l'APK firmato con la chiave, quindi probabilmente non arriverà mai, però il codice è questo alla fine. Se avete domande, sì? No, se non sbaglio no, non so se ora ci sono delle API per il web, per inviare notifiche, probabilmente c'è qualcosa, però è molto più facile inviarlo dalla console, ci sono tutti i parametri lì e tutto il resto. Il problema è quando devi mandare, la push dal codice, cioè ti ho inviato un messaggio, ti ho inviato la push, perché non si può abilitare qualcosa di automatico, che mandi la push. Sì, puoi magari abilitare qualcosa di automatico a livello dell'app, ovvero se succede qualcosa, ma in quel caso non ti serve FireBee notification, puoi semplicemente mandare un nuovo messaggio, una nuova notifica nell'attore e tutto il resto. Cioè puoi farlo direttamente da codice, utilizzando l'API di Android, non ti serve passare per FireBee. Per un'altra app. Ah, per un'altra app, poi sì. e quello non penso si possa fare. Devi farlo per forza dalla console via web. Grazie. Ci sono altre domande? Ok, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.